Siamo qui con Mr. Maiuri, ci rivediamo dopo 3-4 giorni, oggi è amichevole in famiglia, quali buone indicazioni e quali cose da rivedere nella partita di oggi? Oggi è stata la prima partita in cui abbiamo dato un minutaggio superiore, siamo arrivati a 65 minuti tutti di partita, quindi l'indicazione buona sulla durata della partita è che comunque la squadra ha mantenuto compattezza, tutte e due le squadre, una discreta compattezza in campo per cui vuol dire questo che la condizione ora è una condizione che ci permette di giocare qualcosa in meno di 65 minuti, per lo meno un tempo e 10 minuti certamente, venivamo da un carico di forza fatto stamattina considerevole, per cui bene la compattezza, bene alcune giocate offensive nella ricerca dello scarico veloce per l'attacco della profondità, da rivedere magari le scelte forzando la giocata, da rivedere delle uscite difensive reparto più reparto però il tempo ci permetterà volta a volta di identificare magari le cose che meno sono andate bene e lavorarci con insistenza. Abbiamo visto infatti che più di un'occasione ha fermato un attimo il gioco per rivedere qualche situazione soprattutto in difesa, qualche situazione magari lei è stata meno positiva, le è sembrata meno positiva in difesa, qual è stata rispetto a quello che più o meno avete provato durante la settimana in questi dieci giorni di allenamento? Sì, ci sono state delle letture sbagliate sugli esterni difensivi in ambedue le squadre e ci sarà da lavorare sull'intenzione di giocata degli avversari ma il tempo comunque gioca in nostro favore perché potremo correggere queste situazioni lavorando. Sì, appunto il primo appuntamento sarà il 21 per la Coppa Italia, si arriverà quasi sicuramente pronti, si spera, al primo appuntamento ufficiale. Indicazioni buone se sono viste oggi in campo da Coppola che si è mosso bene per buona parte della prima parte di gioco, forse anche il caldo che forse ha penalizzato un po' i ragazzi in alcune situazioni che appunto diceva le prime pure di lucidità e di manovra che non sono state tanto secondo i vostri schemi. Il caldo certamente, un lavoro di forza notevolissimo fatto stamattina e comunque è una condizione precaria del momento, però la ricerca c'è stata e questo l'ho apprezzato, è chiaro che non basta la ricerca, ci vuole il movimento giusto anche nel tempo giusto e quindi insomma avremo il tempo di mettere a posto le cose. Per quanto riguarda Coppola è un longilineo asciutto per cui è normale che magari entri in condizione più velocemente degli altri. In questo periodo fisiologicamente ci sono giocatori che stanno molto alti di condizione e altri molto bassi perché c'è magari chi accusa di più i carichi di lavoro rispetto ad altri, ma è sempre stato così. Probabilmente quello che sta molto più su tra una settimana sarà sprofondato giù e si sarà alzato quell'altro. È così per noi e così per tutti in questo momento, però da domani riprenderemo a lavorare con enorme intensità perché il nostro obiettivo è quello di presentarci alla prima partita di campionato con la condizione migliore possibile. L'altra volta parlavamo della sua intensità che dà ai calciatori, oggi su alcuni interventi sia a centrocampo che in difesa abbiamo visto che c'è già una buona dose di cattiveria agonistica, vuol dire che stanno apprendendo bene la mentalità del mister, quella di essere sempre già pronti e preparati già da adesso in forma campionato. Io penso che nel calcio a parità di qualità, a parità di organizzazione, vince la partita e porti i tre punti a casa e l'obiettivo a casa è chi è più cattivo, chi ha più fame dentro. Siccome si parla di un gruppo di giocatori, la cattiveria è abbastanza genetica, però più giocatori trasmettono ad altri questa fame di vittoria, questa voglia di arrivare ai tre punti, magari è più facile arrivarci. Per me questa deve essere una cosa, qui non dobbiamo tradire mai, dobbiamo avere fame, la dobbiamo mettere nel campo, dobbiamo essere squadra, dobbiamo avere aggressività dentro perché siamo la Nocerina e la Nocerina, ahimè, per fortuna e non purtroppo, perché se no non avrebbe avuto questa storia, necessita di interpreti nel campo che abbiano fame, che abbiano voglia, abbiano spirito, abbiano veramente tutte queste caratteristiche che non devono mai mancare. A proposito appunto di fame, di tre punti e di vittoria da conquistare sul campo, dove pensa, preferisce oppure comunque pensa sia più facile prendergli questi tre punti, visto che si parla tanto dei due gironi in cui potrebbe essere collocata a martedì la Nocerina, nel girone H o nel girone I, quale pensa sia più facile sia logisticamente che pure a livello di squadre e a livello di raggiungimento dell'obiettivo? Logisticamente il più semplice è il girone H, per quanto riguarda le trasferte, la possibilità di accedere nelle cittadine dove andremo a giocare, logisticamente è più semplice. Per quanto riguarda invece il discorso tecnico, di preferenza, io dico preferire un girone rispetto a un altro vorrebbe dire denigrare l'altro in partenza, ma troveremo delle difficoltà sia in uno che nell'altro perché comunque ci sono squadre di notevole caratura in entrambi i gironi, poi bisognerà anche vedere come verranno messe le campane insieme, se nel girone I oppure nel girone H, però io obiettivamente ho tante cose a cui pensare che se dovessi pensare anche a questa cosa probabilmente questa bella testa lucida che ho qualche giorno va a scoppiare, quindi mi interessa pensare a campo dove ci mette il signore, tanto sappiamo quello che dobbiamo fare, o nel girone I o nel girone H.